Dopo l'annuncio arrivato da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture, la leghista Donatella Merra, che in una nota stampa aveva manifestato la propria intenzione ad un passo indietro a seguito di una profonda riflessione politica, è arrivata la risposta del presidente della regione Basilicata Vito Bardi, che in un posto giudica ingenerose ed incomprensibili le parole e i giudizi espressi dalla componente della giunta. La Merra aveva affermato che venendo meno quello slangio indispensabile a concretizzare i grandi progetti e i grandi investimenti di cui la Basilicata non può più fare a meno, non sussistono più le condizioni per esercitare pienamente e degnamente il proprio mandato politico. Per Bardi si tratta quasi di una contraddizione in quanto, afferma testualmente il governatore, lei stessa ha più volte riconosciuto in passato quel cambiamento che ci ha portato alla guida della regione. Cambiamento non è parola vuota, afferma Bardi, non si traduce nella mera sostituzione di donne e uomini alla guida della regione, ma in una modifica innanzitutto di stile, nel modo di rappresentare le istituzioni, nel tenere a cuore gli interessi della comunità e nella capacità di sfidare le tante resistenze che subiamo ogni giorno. Il tentativo di delegittimare tutto il centrodestra nell'approssimarsi di una scadenza elettorale importante per la storia della nostra regione rende la presa di posizione di Donatella Merra utile solo agli avversari politici. La tenuta del centrodestra, conclude Bardi, si gioca sul senso di responsabilità e di sacrificio, cercando di dare voce a quella Basilicata che non vuole più tornare indietro. Mi preme ricordare che le dimissioni non si annunciano ma si presentano, a ogni modo farò valere le mie prerogative.